Ciao a tutti ragazzi, oggi continuiamo la nostra serie di guida all'acquisto parlando dei bastoncini da trekking. Vedremo caratteristiche, i materiali con i quali sono fatti, il tipo di chiusura, il tipo di impugnature e via dicendo. Vedremo quale ha più senso acquistare in base alle nostre necessità. Ma iniziamo il video. Inizio parlandovi del perché vanno utilizzati i bastoncini da trekking. Beh, innanzitutto per una questione di sicurezza, perché oltre alle nostre due gambe riusciamo ad avere altri due appoggi col terreno dato dal prolungamento del bastoncino della nostra mano naturalmente. Questo ci permette di avere un maggiore equilibrio, di poter assestarci nel caso dovessimo perdere l'equilibrio, di poter aiutarci nei casi in cui c'è qualche terreno un po' pendente e via dicendo. Ci aiutano tantissimo nel progredire, perché riusciamo, se abbiamo anche zaini pesanti, a poter utilizzare anche tutta la parte delle braccia e del petto per andare avanti, per portare avanti il nostro peso. Ci aiutano nella postura, perché noi di solito quando andiamo in salita tendiamo a incurvarci molto sul davanti e questi, se settati bene, ci tendono a far stare più su con la schiena, quindi avere una cassa toracica più aperta e farci entrare più aria, quindi riusciamo anche a progredire meglio. I motivi sono veramente tanti, diciamo che io vi consiglio sicuramente di utilizzarli sempre. Ma quali bastoncini acquistare? Beh, lo vediamo subito. Iniziamo parlando di quelli che sono i materiali con i quali sono composti i bastoncini. Qua abbiamo due grosse famiglie, i bastoncini in alluminio e i bastoncini in carbonio. La differenza principale è che i bastoncini in alluminio sono molto più economici, sono decisamente più facili da utilizzare, non si spezzano, nel senso se noi dovessimo andare a piegarli eccetera, non si vanno a spezzare ma proprio si piega anche il bastoncino, quindi diventa più duratura nel tempo perché riusciamo un pochino anche a metterli a posto in caso. Però sono più pesanti, questo è un grande man, nel senso se prendete due bastoncini in carbonio e in alluminio sentirete che quello in alluminio, anche se top di gamma, risulterà sempre più pesante. Quello in carbonio, beh sicuramente la leggerezza, veramente un bastoncino in carbonio è super leggero, però costano tanto, se li maltrattiamo questi si spezzano, non si piegano, questi proprio si spezzano a metà. Io ho avuto bastoncini di entrambe le famiglie e sinceramente vi consiglio, se siete personali prime armi, di andare su quelli di alluminio soprattutto per una questione di prezzo. Se invece fate trekking molto lunghi, dove magari anche il grammo fa la differenza, io vi consiglio quelli in carbonio, oltretutto perché sono anche più rigidi e sentiamo meno le torsioni del bastoncino dovute al terreno. Veniamo ora a parlare dell'impugnatura che è una delle parti fondamentali per scegliere il giusto bastoncino. Iniziamo parlando delle impugnature più economiche, quelle fatte in plastica dura. Io queste personalmente ve le sconsiglio completamente. Passiamo almeno al livello successivo che è la gomma, perché quelle in plastica dura veramente vi faranno tantissimo male le mani. Ha solo aspetti negativi, l'unico aspetto positivo che ci può essere che costano poco. Però giusto qualche ora in più troviamo la gomma. La gomma che è un materiale molto economico, quindi lo troviamo sui bastoncini basi di gamma all'incirca, però fa sudare abbastanza e se noi abbiamo una bella presa rischiamo che ci faccia venire vesciche, calli. Non è proprio il massimo, ecco, diciamo la verità. Il blow step successivo è il sughero. I bastoncini in sughero hanno dalla loro sicuramente il fatto che sono un buon rapporto qualità-prezzo, nel senso hanno un sacco di aspetti positivi e non costano così tanto, se ne trovano veramente anche poche decine di euro. Uno degli aspetti positivi sicuramente è il fatto che vanno bene più o meno per tutto l'anno. Questo perché sia il sughero è un ottimo isolante per l'inverno che d'estate non fanno sudare troppo. L'altra cosa molto buona dei bastoncini in sughero è che quando noi andiamo a impugnarli dopo diverso tempo il sughero va a prendere anche quella che è la nostra forma della mano, quindi si adatta. In generale però il loro difetto forse è quello di non traspirare così tanto, nel senso sono buoni, sicuramente sono meglio di quelli in gomma, ma non sono all'altezza di quelli in schiuma. E appunto parliamo di quelli in schiuma che sono i più freschi possibili, questi qua veramente anche utilizzati d'estate ad altissime temperature, non vi faranno mai sudare la mano, non avrete mai problemi di vesciche, calli, anche impugnandoli la presa è molto piacevole, e soprattutto riduce anche gli sfregamenti durante la camminata. Qui abbiamo diverse fasce di prezzo, diversi utilizzi, sicuramente come dicevo il sughero è quello che va bene un po' per tutto l'anno. D'estate se cercate un bastoncino solamente estivo, beh allora vi consiglio quelli in schiuma, perché d'estate non fanno sudare, ma d'inverno la schiuma tende un po' ad assorbire quella che è magari la pioggia, la neve e via dicendo. Un consiglio personale che vi do è quello di scegliere un bastoncino che abbia, oltre all'impugnatura per la mano, una parte di prolunga qua sotto. Questo perché nei momenti in cui andiamo a camminare su un terreno particolarmente pendente, particolarmente ripido, beh avere un'impugnatura sotto ci aiuterà tanto nel progredire, altrimenti dovremo stare continuamente ad alzare e abbassare il bastoncino. Invece avere un'impugnatura in gomma anche sotto ci verrà molto più naturale andare a impugnarlo qua, senza dover stare continuamente ad alzare e abbassare il bastoncino. Sempre parlando di impugnatura parliamo anche del cinturino. Questo qua viene molte volte sottovalutato, molte volte viene anche sfilato, non si utilizza proprio. Invece aiuta tanto, soprattutto in discesa, a distribuire meglio la pressione. Oltre a non perdere il bastoncino naturalmente, perché così ce l'abbiamo legato e siamo sicuri di non perderlo, è uno strumento che utilizzato in discesa può veramente fare la differenza. E se non lo utilizzate ancora vi consiglio di provare a utilizzarlo. Qui abbiamo due diverse tipologie. Quelli fatti in tessuto, come possono essere questi tre, naturalmente. Poi abbiamo magari quelli più top di gamma che hanno un tessuto che è più piacevole al tatto, mentre magari quelli più basi di gamma una cordina che non è così tanto piacevole al tatto. E poi abbiamo quelli ergonomici, che quindi sono fatti a polsino e quelli veramente scaricano la pressione tantissimo e ci aiutano tanto anche nel progredire in salita. Veniamo ora a parlare delle varie tipologie di chiusura dei bastoncini. Qui abbiamo quattro famiglie distinte. La prima è quella dei bastoncini a tutta lunghezza, che purtroppo non ho qua. Nel senso, voi comprate un bastoncino lungo, un metro e trenta, un metro e quaranta, quella lunghezza non si dispiega in nessun modo, così ve lo porrate in giro. Io personalmente ve li sconsiglio completamente, perché diventano ingombranti. È veramente difficile utilizzarli quelli. Un'altra famiglia abbiamo, che diventano piccoli piccoli, sono quelli che si dividono in tre parti. Questi qua, come sono composti? In pratica sono tre parti che si vanno a unire tramite un filo in acciaio che ci sta dentro e si vanno a comporre in questo modo. Quindi diventano veramente molto piccoli quando dobbiamo andare a riporli. Perché, come potete vedere, è grosso la metà di un bastoncino, diciamo, normale, come può essere quello telescopico e via dicendo. Secondo me un grosso difetto che hanno è che è difficile riporli nello zaino, perché gli attacchi che fanno i produttori per i bastoncini e gli zaini sono pensati per bastoncini di questa lunghezza, non così piccoli. Questi di solito vanno riposti magari all'interno dello zaino oppure nelle tasche laterali. Almeno che il produttore, come è per questo modello, non vi vada a fornire magari anche una sacca aggiuntiva dove andare a riporli dentro per il trasporto. Perché sennò da trasportare questi risultano veramente difficili. Veniamo alla seconda categoria di bastoncini. Quelli che si chiudono con l'espansore interno, twist, avvite, hanno diversi nomi. Questi come sono formati? Sono formati da un bastoncino telescopico, sicuramente perché si allunga richiudendosi una parte dentro l'altra. Ma per chiudersi va avvitato. All'interno c'è un espansore che più si avvita, più questo aumenta di volume e va a far pressione sulle pareti in modo tale che appunto rimanga serrato. È una soluzione che io ho utilizzato per diverso tempo ma non mi ha mai convinto al 100%. Perché pur che noi facciamo tanta pressione, dipende un po' dal tipo di bastoncino, capita che comunque questo tenda un pochino ad abbassarsi. Se noi magari stiamo salendo in salita con tanto peso sul bastoncino, non è bello sentire il bastoncino che magari scende di 10 cm perché l'espansore non fa abbastanza grip. È una tipologia che personalmente io non vi consiglio tanto. Quelli che vi consiglio invece sono sicuramente quelli telescopici, ovvero che hanno la struttura all'interno che rientra uno dentro l'altro, però che hanno la vite, cioè che hanno una chiusura a clock che si può naturalmente andare ad aumentare e diminuire la pressione, ma questi veramente non mi hanno mai tradito. Con questi qua possiamo incaricarci sopra tutto il peso che vogliamo, possiamo essere persone anche molto pesanti e questi non si muovono. Questi sono veramente il tipo di bastoncino più consigliato per chiunque. Per quanto riguarda gli accessori che troviamo all'interno dei bastoncini venduti insieme, troviamo delle rondelle abbastanza piccole, queste qua, che poi possono essere di varie forme, rotonde, triangolari, esagonali. Quali veramente i produttori si sbizzarriscono. E io vi consiglio di montarle perché ci aiutano ad evitare che affondi troppo nel fango, che si vada a incagliare magari in mezzo a qualche roccia e via dicendo. Queste io ve le consiglio davvero le montate, quando le comprate e ve le dimenticate lì fanno solo bene. Per l'inverno invece abbiamo quelle più grosse. Queste qua vanno ad aumentare la grandezza del nostro bastoncino e quando andiamo a metterlo sulla neve evitando che il bastoncino si infili troppo all'interno della neve. Possono fare molto la differenza, poi vabbè dipende anche dal tipo di manto nevoso. Però se vi capita provate ad inserire il bastoncino con la ghiera così bella grossa e senza. Noterete che senza va molto più a infilarsi nella neve. Cosa molto importante, quando andiamo a comprare il bastoncino dobbiamo comprare anche l'altezza giusta di bastoncino. Allora partendo dal fatto che quelli telescopici hanno un ampio range, partono magari dal metro fino al metro e cinquanta, quindi non abbiamo tanti problemi. Però quando dobbiamo andare a settarli come dobbiamo fare è molto semplice. Noi dovremo andare a mettere il nostro gomito attaccato al corpo e dovremo andare a far formare un angolo retto di 90 gradi tra l'avambraccio e il braccio. Il gomito dovrà essere a 90 gradi. A questo punto possiamo o prendere con un metro l'altezza da terra al nostro braccio e andare a riportarla sul bastoncino, oppure semplicemente prendere il bastoncino e impugnarlo e allungarlo finché tocca a terra. Questo è il metodo più semplice per poter andare a settare i bastoncini secondo la nostra altezza oppure a capire qual è l'altezza giusta per andare a comprarli. In conclusione parliamo un attimo dei prezzi che ci sono sul mercato. Allora diciamo che per i bastoncini entry level in alluminio telescopici partiamo dal fatto che vi consiglio quelli telescopici e gli altri non li prendo tanto in considerazione. Come dicevo in alluminio telescopici si possono spendere 20-30 euro magari quelli molto buoni 40 ecco ma già 40 euro vi consiglio magari piuttosto che l'impugnatura in gomma di E1 entry level vi consiglio l'impugnatura in sughero che questo sicuramente aiuta tanto è un bastoncino come dicevamo multistagione è un bastoncino che può andare bene abbastanza sempre soprattutto in alluminio. Se invece vogliamo puntare al top beh qua il prezzo si alza, si alza parecchio arriviamo ai bastoncini in carbonio con tutta l'impugnatura studiata bene con la schiuma e via dicendo beh qua i prezzi veramente salgono possiamo arrivare a spendere anche più di 100 euro per un paio di bastoncini. Io vi consiglio sinceramente se dovete comprarli non volete proprio l'intrilevere non volete comprare quelli più costosi un bastoncino in alluminio quel manico in sughero e qui andate via tranquilli anche per diversi anni. Perciò ragazzi nella speranza che sia stato esauriente ed esaustivo di avervi aiutato nella scelta dei vostri prossimi bastoncini io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!